Consegnate a Montorio Alvomano le chiavi delle prime nuove case agli sfollati del Sisma 2016. Dei totali 18 appartamenti acquistati a Montorio dall'Aterteramo, la metà degli alloggi sarà già abitata da oggi. Soddisfatto il sindaco Egno Facciolini, che sottolinea il bel gioco di squadra realizzato in sinergia con la protezione civile e la regione, e che ha portato a scrivere una delle prime belle pagine della ricostruzione. I montoriesi fuori casa da tre anni sono circa 600. Dei 18 appartamenti che andranno agli sfollati di Montorio, oggi ne consegnate la metà, chiavi in mano. Chiavi in mano, sì, iniziamo a consegnare, saranno anche di più della metà circa, e dopodiché man mano a seguire tutti gli altri. Chiavi in mano, quindi consegniamo le chiavi, gli appartamenti dopo saranno arredati perché anche chi li abiterà avrà una quota per acquistare i mobili, e qui abbiamo voluto lasciare la libera scelta per arredarli nel proprio piacimento, e quindi penso che i cittadini si troveranno bene. Quanti sono gli sfollati di Montorio? Dagli ultimi conti stiamo sui 600. Un decreto che prevede l'acquisizione di 147 unità immobiliari, ad oggi ne sono state acquisite 139. Restano ancora 8 unità immobiliari e sono tutte sul territorio del comune di Teramo. Per quanto riguarda questa giornata, per noi è chiaro, si concretizza l'effetto di tutta l'operazione. Ricapitolando, in totale gli appartamenti di nuova costruzione destinati agli sfollati teramani sono 147, acquistati materialmente dall'Aterteramo, finanziati dalla protezione civile grazie ad una legge regionale varata dall'Aggiunta d'Alfonso. Al comune di Teramo andranno complessivamente 86 alloggi, 78 dei quali già acquisiti. Il sindaco d'Alberto è in attesa che si concludano i rogeti per iniziare anche lui la consegna degli appartamenti. Insomma, qualcosa si muove, anche se con estrema lentezza, ma oggi comunque a Montorio si festeggia. Una bella risposta per le tante persone che stanno fuori casa, adesso mancano gli altri comuni, però sono contento di quello che si sta facendo sin d'ora.